In questo video andremo a parlare di un nuovo bagliore che è l'avventura gioca subito per Shonen Now. L'avventura è disponibile per tutti, sia chi ha comprato il gioco Shonen Now e sia per chi è curioso e vuole scoprirne di più. Questa avventura però è stata pensata come un tutorial del manuale completo, quindi questo che sta a significare? Sta a significare che se avete il manuale completo di Shonen Now, magari l'avete letto e prendete questa avventura, vi aiuterà tantissimo a metterla subito in opera una volta letto, anche senza aver preso appunti per capirci. Se invece lo state utilizzando per capire di cosa parla il gioco, ricordatevi che comunque questo gioca subito è pensato anche per voi, diciamo, anche se ovviamente avrete una visione molto ristretta delle possibilità che Shonen Now offre. perché sono molto legate a una trama e un modo in cui sono state presentate, diciamo, le meccaniche che aiuteranno ancora di più chi il gioco l'ha acquistato e vuole provarlo da solo per la prima volta. Detto questo, andiamo un po' a scoprire cosa trovate dentro questo gioca subito. Il gioca subito è ambientato nell'ambientazione che si chiama Fallen Children. Fallen Children è già disponibile, ovviamente, per chi ha acquistato il manuale. Dentro l'ambientazione di Fallen Children troverete tutta una serie di indicazioni generali che ovviamente arricchiscono anche questa avventura dal punto di vista dell'ambientazione. A livello di gioco, l'avventura è pensata per essere giocata fino a un massimo di 6 giocatori, GM incluso, ma quello che io vi consiglio di fare è cercare di giocare almeno le prime volte in 4-5 giocatori in modo da poter facilmente apprendere le regole. E vi ricordo che comunque online ci sono i tutorial che potete comunque guardare e magari, dopo utilizzare questa guida per seguendo passo passo le indicazioni che vi dà, vi aiuterà a chiarire ancora altri punti, soprattutto per te ovviamente che non hai il manuale di Shonen Now. L'ambientazione non viene presentata completamente all'interno di questo gioca subito, proprio perché c'è Fallen Children che lo fa, però ovviamente adesso ve la racconto un pochino. Diciamo che in questo mondo tutto è inizio quando una pietra luminosa, quindi la pietra di luce, viene vista nel cielo di tutto il mondo. Quando questa pietra entra in atmosfera in qualche modo esplode in tanti frammenti. Questi frammenti che cadono sul mondo donano ai clan che già da prima dominavano queste terre poteri nuovi, miracolosi, poteri di controllare gli elementi, poteri di controllare la forza della natura, poteri di straordinari, magici, che si vanno a combinare a tutto ciò che i loro clan hanno sempre predicato e portato avanti nel tempo. Ma non è solo questo, perché quando si ottiene questo frammento, e quindi quando un personaggio ottiene questo frammento, ottiene anche una sua mutazione. E' una chiara citazione di One Piece ovviamente. A tutti gli effetti quindi che cosa succede? Che è vero che praticamente tutti hanno ottenuto questi poteri, è vero che tutto sta cambiando, ma è anche vero che ottenere questi frammenti inizia ad essere un pericolo. Perché è un pericolo? Perché ovviamente esistono i cinque clan delle terre conosciute e ne esistono altre cinque delle terre sconosciute. Un tempo diciamo il mondo di Eon era unito, Poi i clan hanno iniziato a litigare fino a quando non sono scoppiate delle sanguinose guerre. Alla fine di queste sanguinose guerre, i due clan hanno deciso di dividersi il mondo. I due gruppi di clan. Quindi i cinque clan, diciamo, delle terre conosciute e i cinque clan delle terre sconosciute. E' una sorta di patto che è rimasto nel tempo, che si dice il quale, che non si oltrepassano ovviamente alcuni tipi di confini, raccontando anche leggende incredibili a chi andasse a superarli, che ovviamente sono solo leggende, non vere. Sono state create appositamente per creare questa divisione. E in questa situazione, diciamo, si è creata una sorta di stabilità, ma il fatto della caduta di questi cristalli ha rotto in stabilità, perché ovviamente tutti i clan vogliono cercare di recuperare questi pezzi, questi frammenti, per creare nuovi combattenti e per, ovviamente, potere. E questo chiaramente sta rieprendo le questioni passate. Ma in questo scenario ricordatevi che questi frammenti da qualche parte devono essere pur venuti, perché le persone che le toccano, oltre a prendere i poteri, mutano le loro parti, assumendo, che ne so, il corpo di uno yokai, piuttosto che parti animalesche, piuttosto che altri tipi di mutazioni particolari legate al loro potere. Perché avviene questo? Che cosa sarebbe successo se la pietra di luce non si fosse rotta? E quindi non si fosse rotta in un frammento? Cosa succederebbe se tutti quanti i frammenti venissero raccolti e riuniti nella pietra originale? Ecco, per rispondere a queste domande, inizia la vostra avventura, perché il gruppo di personaggi che andrete a scegliere, ne troverete cinque in questa guida, e sono dei clan della parte del mondo conosciuto, che cosa dovrete fare? Dovrete andare a scoprire qualcosa. Tutto inizia nel villaggio di Kasai, dove praticamente questi cinque personaggi provenienti dai cinque clan collaborano tra di loro, nonostante le differenze di filosofia, e perché? Perché stanno indagando su questa pietra, su cosa succederebbe se la pietra venisse riunita, sul perché questa pietra è precipitata proprio sul mondo di Eon, per rispondere a tutta una serie di domande. E proprio quando inizia questa avventura, un grosso bagliore squarcia il cielo, un nuovo bagliore appunto, e un nuovo frammento è caduto. E quindi questo che sta a simbolizzare, che c'è un nuovo frammento da recuperare, e vogliono evitare che ovviamente finisca nelle mani degli altri clan. Ed è per questo che il gruppo di personaggi, inizio avrà proprio questo obiettivo, capire dove è caduto il frammento, e andarlo a recuperare. E' proprio così che verrete introdotti alle meccaniche base del gioco. Qui le meccaniche vengono presentate gradualmente, quindi se voi già conoscevate tutte le meccaniche, perché avete sentito i tuori, eccetera, ricordatevi che qui verranno presentati un pezzettino alla volta, proprio per aiutarvi ad apprendere. La prima meccanica che vi viene insegnata è che quando si fanno delle prove per indagare, si usa una scala a parte, che è proprio la scala di risultati, di successo legate all'indagine, e vi fa vedere le prime cose che potete fare. Cioè, cosa succede se mettete in gioco il vostro archetipo, uno o qualsiasi degli elementi che lo componte, beh, prenderete un più uno al risultato dei dati. Se mettete in gioco un tratto dell'essenza speciale, dove vedrete ci sono le mosse dei vostri personaggi, colpi speciali, eccetera, otterrete un ulteriore più uno. Si lanciano poi due dati da dieci, e si sommano tra loro. Si sommano i bonus, e andrete poi a confrontarla con la scala di riuscita. Scala di riuscita che in questo caso è descrittiva, perché appunto serve ad aiutarvi a capire come funziona. Qui troverete poi la versione generica, che potrete sfruttare per futuri, ovviamente, conflitti. Viene anche spiegato come si fa a collaborare. Ecco, tutte le meccaniche di collaborazione, poi vedremo di ardore e di amicizia, non fanno altro che aggiungere dadi. Sono dadi che si tirano in più, da dieci, e una volta che vengono tirati, si scelgono i due con il risultato più alto. Questa è una regola universale, quindi con il caso di collaborazione lancerete un dado in più, e lanciate tre dati da dieci, vedete quelli due che hanno ottenuto il risultato più alto, e li sommate tra loro, e quello è il valore che avete ottenuto. In più, poi ci sono delle situazioni particolari causate da alcuni tipi di dado, che sono il dado ardore e il dado dell'amicizia, ma lo andremo a vedere dopo perché non è qui. Una volta sommato il risultato, si vanno a guardare gli esiti. Ora, le scene di indagini in questo gioco, essendo un Powered Bike Tulu Abyss, non ti dicono se riesci o meno a trovare gli indizi. Troverai sicuramente degli indizi e la quantità di informazione, la qualità di informazione che andrai a valutare. Quindi con il minimo, che magari è un esito incerto, e comunque un 9 o meno, otterrete comunque qualcosa che vi permetterà di portare avanti le vostre indagini. E in questo caso troverete proprio dei riferimenti alle scene, un po' come un libro gioco, no? In cui andate nel paragrafo. In effetti, che ne so, se avete avuto 10 o 12, dovrete andare nel paragrafo 2.2. Quindi andrete nella parte 2, andrete sulla parte 2.2, leggerete ad altavoce ai giocatori quello che succede, leggerete che chiaramente ci saranno delle nemisi qualche situazione aggiuntiva da dover gestire, e a questo punto, guardate, queste sono le descrizioni delle nemisi che poi potrete riscrivere ai personaggi, con i loro valori, e a questo punto magari nascerà un conflitto, a seconda del tipo di situazione che sta succedendo e le richieste dei giocatori. E quindi qui vengono spiegate ulteriormente le meccaniche. Ora, quello che già è stato illustrato è valido, quindi già sapete come si collabora, già sapete come si ottengono i vantaggi di più uno con l'essenza, sapete come si ottiene il vantaggio di più uno con il... il... scusatemi, con il... 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 non mi viene una parola, non fa niente, comunque più uno con l'essenza e il più uno ovviamente con l'archetipo, e poi cosa potete fare? Potete chiaramente aggiungere altre regole. Quali sono le altre regole? Beh, oltre l'essenza speciale che vedrete avrà le sue mosse, potete mettere in gioco il potere segreto, che è appunto il vostro colpo più forte che riuscite ad utilizzare, che ha degli effetti particolari. Il primo è quello di andare ad incrementare la barra d'ore che avete nella vostra scheda, ci farete una crocetta sopra di uno, e in più fornisce un bonus di più uno al tiro dei dadi. Il potere segreto è usabile una sola volta per scena di conflitto, quindi se state facendo una scena di conflitto, fino a quando non finirà tutto il conflitto, tutta questa scena, non potrete riutilizzarlo. Quando... E poi iniziamo a mettere in gioco altre cose. Quali sono le altre cose che metteremo in gioco? Beh, in particolare, quali sono le azioni che possono farvi mettere in gioco il dado dell'ardore, in particolare sono quelle prove nelle quali voi cercherete di... nelle quali rischiate che il vostro sogno si infranga. Vedrete che nella scheda del vostro personaggio c'è proprio il sogno, no? Passato. Sogno e Nemesi. Ecco, se uno dei tre elementi viene messo a rischio o l'obiettivo della missione viene messo a rischio, allora in quel momento voi giocherete un dado d'ardore, che è la vostra motivazione ad andare avanti. Il cosmo dei Cavaliere dello Zodiaco e tante altre implementazioni che vedete negli vari shonen. Detta questa cosa qua, lancerete il dado d'ardore. Una volta che avete lanciato il dado d'ardore, se giocate al tavolo usate un dado da 10 di colore diverso rispetto agli altri, e una volta che l'avete lanciato, questo dado d'ardore, oltre a funzionare, come abbiamo già spiegato, si prendono sempre i due con il risultato più alto, se quel dado ottiene un risultato di 4 o più, la barra d'ardore aumenterà di 1. Che significa che sulla barra d'ardore ci andrete a mettere una crocetta sul risultato. Ora, cosa succede quando aumenta la barra d'ardore? Ecco ragazzi, quanto aumenta la barra d'ardore, man mano che andrete avanti mettendo delle crocette, otterrete dei bonus di più 1 al grado. Quindi se il vostro grado iniziale è quello di grado 1, vedrete che siete tutti personaggi di grado 1, che cosa succede? Con questo bonus il vostro grado momentaneo diventerà più 2, poi più 3, poi più 4, eccetera, eccetera. Cresce con questa barra dell'ardore. Ma facendo attenzione che se il risultato dovesse, se riempite la barra dell'ardore e andate oltre, ovviamente il vostro personaggio perde il controllo. E ci sono chiaramente delle condizioni che poi andrete a risolvere. Il giocatore poi finisce fuori gioco e rientrerà dopo una scena di recupero. Poi c'è il concetto di amicizia che funziona esattamente con l'ardore, ma in questo caso è quando avete messo in gioco un legame. Il legame che il vostro personaggio porterà avanti, ok? Quindi, che ne so, se avete il legame con un vostro amico e avete paura che lui sta per morire, mettete in gioco il dado dell'amicizia. Anche questo dado è meglio utilizzare un dado di colore diverso e se supera 4 o più, invece di incrementare la barra dell'ardore, vi abbasserà l'ardore di 1 e vi tranquillizza, vi calma, ok? All'effetto contrario. Cosa succede? Che in questo caso ci sono tre, diciamo, diverse scale. Perché ci sono tre scale? Perché dipenderà dal vostro grado rispetto a quello delle nemesi. Se il vostro grado è pari a quello delle nemesi, allora andrete qui. Se il vostro grado è inferiore a quello delle nemesi, allora andrete qui. Se invece il vostro grado è maggiore, andrete qui. Sì, è una meccanica simile a quella di login, anche se molto più facile. Quindi, in base al vostro grado rispetto all'avversario, avrete dei risultati. Questo è il funzionamento. Noterete che a fianco c'è scritto esito certo, esito incerto. Che cosa sta a significare? Cosa signifiono questi tag? Stanno a significare che il GM, ogni volta che praticamente farete un tiro e andrà a determinare qual è poi la soglia che avete raggiunto, si andrà a puntare questi valori. è che se c'è un obiettivo nella scena, per esempio, scappare da un inseguimento e quindi riuscire a scappare dai nemici che vi stanno inseguendo, ecco, una volta che avete raggiunto almeno tre esiti certi, potrete chiaramente dichiarare che siete riusciti tranquillamente a seminarli e non potranno più disforvarvi fino alle prossime scene, ovviamente. Questo è un pochino il concetto che c'è dietro. Qua poi, cosa succede? che una volta che qui segue chiaramente il flusso, vi dice come ottenere i vantaggi, vi spiega un pochino come funziona la barra dell'ardore, vi fa fare il tiro, una volta che avete terminato la soglia, vi dice anche un po' come gestire l'esito e vi spiega nel dettaglio la barra dell'ardore. Barra dell'ardore, che come abbiamo visto anche nei tutorial che comunque trovate qui su YouTube, ha tante funzionalità, però in particolar modo quello che vi deve essere chiaro è che va a aumentare il grado del vostro personaggio, quindi voi siete grado 1, magari la Nemesis a inizio combattimento è di grado 2, quindi è più alta di voi, poi riuscirete magari a raggiungerla e successivamente anche a superarla e chiaramente vedrete che è molto più facile poi buttarla giù, ok? Mettiamola così. C'è la possibilità ovviamente durante il combattimento di aumentare in autonomia i punti ardore, potete raccontare un feedback di qualcosa che vi ricordate della vostra vita e facendolo aggiungerete due crocette sulla barra d'ardore in autonomia. Potete farlo una volta per scena di conflitto e questa cosa chiaramente mi deve ricordare quando Goku carica o come si chiama Gon sta caricando la sua super mossa e quindi chiaramente andate a mettere queste crocette sulla barra d'ardore che poi potrebbero avere l'effetto di farvi aumentare il grado del personaggio. dopo questa scena giocherete una scena di recupero ma è veramente una scena di recupero molto riassuntiva non ci sarà la parte di avanzamento non ci sono tantissime cose quindi molto semplice è spiegata all'osso che però mi permette comunque di capire come che avanzamento avete nella trama e di giocare questa scena che comunque è molto importante mentre vi avvicinate all'obiettivo finale non vado avanti perché non voglio spoilerarvi nulla dell'avventura se dovete giocarla e torno sulla cover e niente vi lascio così perché da quel momento in poi a parte che poi ci sarà la possibilità di mettere in gioco anche l'oggetto speciale ma vedrete che c'è una spiegazione molto semplice sul come farlo e quindi potrete mettere in gioco anche il vostro oggetto speciale che poi non sarà altro che il frammento e detto questo ragazzi io vi lascio grazie grazie